Buongiorno, sono Giorgio Bianchini, siamo tre del UF Sud Milano e ovviamente siamo ben contenti e felici di giornate di questo tipo che seguono un po' la nostra attività. Noi siamo volontari, la nostra associazione ha 35 anni e nel corso della vita siamo riusciti a far mettere migliaia di piante e ovviamente siamo ben contenti che questa tradizione prosegua anche perché alla luce delle tematiche planetarie il metodo più efficace e più efficiente per minimizzare i cambiamenti climatici ancora come cattura di CO2. Quindi voi pensate che ad esempio l'ultimo, poi mi fermo, però faccio presente che l'ultimo rapporto quello che dice che non dovremmo superare un grado e mezzo di gradi per evitare catastrofi invincibili prevede che si debbano mettere ogni anno per dieci anni una foresta di superficie pari a quella del Belgio che è un obiettivo quasi irraggiungibile, diciamo quasi, quasi, non solo mettendosi gli occhiali da ottimista faremo una cosa del genere per cui da questo, oltre al fatto che comunque gli alberi hanno sempre avuto una validità, un'affezione per l'umanità tremenda però a maggior ragione noi cerchiamo e cercheremo sempre di più di mettere giù piante e difendere quelle che ci sono in tutte le loro varie declinazioni. Poi oggi siamo particolarmente contenti che siamo riusciti a fare una cosa più simile e quindi spero e mi auguro che, una collaborazione veramente carina e ringraziamo ovviamente l'amministrazione comunale speriamo che queste cose poi si moltiplichi, cioè questi devono essere solo esempi di qualcosa che deve essere invece virtuoso e proprio distribuito in modo capillare. Se poi avete voglia di vedere qualche nostro esempio abbiamo, stiamo bene o male gestendo cinque aree naturalistiche nel sud est Milano e una è a San Donazio ed è al di là della Paolese, venite, ci mettiamo la corda e facciamo una visita a tutti insieme, grazie 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 grazie